Questa casetta sul corso per mettere in evidenza che cosa? Innanzitutto l'attività che i progetti SAI fanno sul territorio insieme ai beneficiari ma sempre sul filo conduttore della contaminazione perché per esempio per realizzare le opere d'arte esposte è stato attivato un laboratorio d'arte in collaborazione con convegni cultura Maria Cristina di Savoia in cui hanno partecipato anche il signore Crotonessi quindi lo scopo è questo, divulgare quello che i progetti SAI fanno sul territorio. Quando parliamo dei progetti SAI parliamo dei migranti e queste opere sono state create dai migranti. Quando parliamo dei progetti SAI parliamo di seconda accoglienza quindi raccontiamo tutta la fase di integrazione delle persone richiedenti esilo e titolari di permesso di soggiorno. In queste opere che vediamo qui esposte qua dietro abbiamo la storia di due percorsi laboratoriali che hanno visto fianco a fianco le persone che lavorano all'interno di alcune associazioni lavorare con i migranti accolti nei nostri progetti e per noi si intendo quelle delle cooperative che gestiscono la seconda accoglienza, ricordo Agora Croton, Croton Community, Baobab e Progivarci Isola di Capo Rizzuto per un totale di 200 posti, 200 persone che adesso riescono in qualche modo grazie al lavoro che si fa nei centri a poter essere integrati nel nostro territorio. Questa casetta che avete voluto qui sul corso per tutta la giornata è per mettere i crotonesi di fronte all'importanza che c'è di avere rispetto di queste persone e di aiutarli? Sì, innanzitutto vorremmo ringraziare l'assessore Filippo Linzi per averci dato la possibilità di poter allestire questa casetta oggi qui. L'intento è proprio quello, stare in mezzo alla gente per poter far vedere e divulgare quello che sono i progetti SAI e la ricchezza che possono rappresentare sul territorio anche perché queste attività, come dicevo prima, sono nate dalla collaborazione non solo delle istituzioni e degli enti e delle cooperative appartenenti alle reti SAI ma anche delle cooperative della rete SAI con altre realtà associative del territorio. Ricordiamo anche ad esempio l'associazione Multitracce e le sue artigiane con le quali è stato possibile insegnare ai nostri beneficiari l'arte dell'uncinetto e produrre questa bellissima coperta. Ognuno di questi quadrotti è accompagnato da un racconto, questi sono i racconti dei nostri beneficiari del loro viaggio, delle decisioni, delle scelte che li hanno spinti a venire qui e di quello che hanno trovato qui, accoglienza e un futuro.